buon mercoledì a tutti i bagli e brutti un bacione da michelone un bacione come la va ragazzi è presto è presto vi dico subito sono le 6 e 6 e un quarto 6 e 20 come la va come la va è momento di caffè latte bevo come la va ragazzi tutto bene tutto bene allora adesso non ci sono argomenti non ci sono argomenti tanti e chi è cosa fanno i tifosi della juventus ma non pericoglione marchisio no quante volte vi ho detto quante volte vi ho detto ti fate juventus sostenete la juventus difendetele non andate in giro a far a far cagate in giro dai su ragazzi per l'amor per l'amor di dio se vai a rompere le palle anche marchisio che ha detto una cosa una cosa giusta una cosa che una cosa vera una cosa vera i tifosi della juventus sono in tutto il mondo i tifosi del torino sono più 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 in gran parte a torino e basta perché torino non è che abbia milioni di tifosi come la juventus a una tifoseria giusta secondo me nel nell'ambito nella 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 città di torino ma basta lì non è che invece invece i tifosi della juventus sono più che altro sparsi in tutto il mondo ce ne sono tanti no non è che ha detto chissà che roba che vanno fanno vanno lì quattro di loro lì qualcosa e incappucciati a mettere fuori fuori del ristorante ma 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 non avete un lavoro voi non avete un non lo so una vita andate a rompere ma andate a rompere le palle anche a marchisio anche a marchisio poi già quello che ha passato lui anche 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 alla fine lì col becca morto no perché anche lui ha avuto problemi con l'esonerato il becca il becca mortese lì no quindi no anche colpa sua è perché anche colpa sua è perché quello che bisogna dire bisogna dire però tante volte le cose vanno risolte in una certa maniera invece qualcuno si monta la testa no perché allena la juventus no comunque invece di rompere le palle marchisio dai andate a rompere le palle qualcun altro a chi rompe veramente i coglioni la juventus a chi rompe veramente i coglioni la juventus chi ha sempre il nome della juventus in bocca che ci sputana sempre andate lì a rompere le palle che vi ho sempre detto a quello che sta in portogallo lì che ha sempre il nome della juventus in bocca e a certi altri che con quello lì ho una fotta con quello lì no ma 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 tempo debito tempo debito e io guardate che sono uno che se che se ne liga il dito e io non mi dimentico mai di nessuno la memoria molto lunga come quella degli elefanti comunque comunque ripeto invece di andare a rompere le palle pensate invece a difendere la juventus da quelli che hanno che l'hanno sempre nella bocca per fare i piccioli per fare i piccioli per fare visual per fare le per fare le porcherie loro questo dovreste fare voi tifosi juventini che come tifo facciamo già abbastanza schifo basta vedere con la questione allegri e con tutte le altre cose sempre divisi sempre di qua sempre di là io non ho mai visto una tifoseria come quella della juventus mai eh io non ho mai visto la tifoseria del mila ridotta così quella di neanche quella di prescritti ridotta così nessuna 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 pensate a tifare la bandiera la bandiera come era una volta no tifare sempre il singolo giocatore o il singolo allenatore perché adesso va di moda questo no invece di tifare perché questa qui vedete questa qui questa e questa è importante questa la maglia il simbolo il simbolo questo è importante il resto lo conto un cazzo non conto un cazzo perché tutti quanti passano tutti quanti passano ma questa rimane questa è quella che conta per passare un piccolo argomento poi chiudo non è non c'è tanto da dire che sentito il sergio dice che questi due due giocatori sono stati svenduti in junio a baranecea oddio c'è la juventus non è che fa le robe come le fa l'inter le porcherie che fa l'inter che va a vendere giocatori giovani a 30 milioni no robe robe del genere no e li sappiamo noi nomino casa dei poi quell'altro lì che neanche non mi ricordo ce ne sono un paio un paio o più di cento ha detto il signor ausiglio lì ausiglio quindi non è che noi facciamo le porcherie come fanno loro secondo me sono state vendute una cifra una cifra onesta mi pare che uno a 14 milioni insomma dai 13 milioni non è che aveva vinto la champion league no in junio a quell'altro 8 milioni ha giocato nel frosinone insomma per andare a prendere un giocatore che dicono tutti che un fenomeno vedremo vedremo perché io vi aspetto il varco è perché verranno ceduti giocatori che secondo me potevano potevano rimanere ancora la juventus vedi mckenny perché mckenny ancora in fase ricordi di 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 non si capisce e arabio ancora non si capisce pare che vada via e chiesa sapete che chiesa è un discorso un po un po articolato e poi c'è la questione gatti ci sono ancora qui i giocatori che vengono nominati come scambi per prendere altri giocatori vendere per fare cassa io su certi giocatori non li vengono non li avrei venduti o non li venderei perché secondo me ci sono tanti altri da mandare via i nomi li sapete no quelle che sono no i deciglio i miretti locatelli e poi 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 buona e cosa già dato via l'ex hanno dato via il rabbio è uno che 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 con la juventus se non c'entra un cazzo non ha mai centrato un cazzo poi che c'è che ci sono gli altri ce n'è di ma ce ne sono milico ormai è uno cadato pona può andare via che è stato spedito anche lui per lo sbagliato milioni quindi piano piano io mi fido di giuntoli quindi non rompete le palle gianca da che adesso ha già aggiunto lì per favore non rompete le palle anche aggiunto lì perché se rompete le palle anche lui ragazzi siamo messi male siamo messi male ragazzi quest'anno vedremo veramente di che pasto è fatta lui è perché l'altro anno non potevi cosa vi vuoi dire aggiunto lì avevamo ancora il becca morto che aveva la parola su tutto e giunto lì è arrivato che non c'aveva una lira comprato un giocatore anzi diciamo un giocatore qua e due li ha portati a torino a gennaio non li abbiamo visti mai questi due giocatori quindi che cazzo li vuoi dire aggiunto lì no se abbiamo se in panchina aveva un becca morto lì torniamo sempre lì no sempre lì sempre lì quindi io non lo so non lo so non metto bocca in quello che sta facendo aggiunto di adesso criticheremo quando sarà il momento di criticare per me ma in questo momento fino a adesso sta facendo le cose per bene per bene poi e poi quando incomincerà la stagione che vedremo la rosa com'è quelli che sono andati via quelle che sono rivasti daremo un giudizio adesso per il momento non 14 8 milioni più 18 perché insomma dai su 14 22 30 40 milioni per un pacco e due giovani insomma dai ragazzi su ragazzi ne abbiamo ancora di roba da fare ne abbiamo di roba da fare 40 milioni ti sei presentato uno che dicono che un fenomeno un piccolo un fenomeno no quello lì poi vedremo gli altri insomma dai c'è ancora tanta roba lì devo andare via c'è ancora una roba e ascolta michelone ascolta michelone come come dice come dice una certa persona fateli cazzi tu fateli cazzi tu amico caro amico caro vi ricordate chi è questo qua no famoso famoso grande 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 il nostro senatore fatti fateli cazzi tu amico amico caro amico caro ascolta giunto lì amico caro niente più di altro altre cose non è che ci sono da dire tante cosa lì è passata ci sono passati passati gironi adesso vedremo i quarti di finale adesso veramente ci sono le partite toste le partite toste portogallo le passate i rigori quell'altra lì ieri è passato il coso l'austria non ho visto l'austria porca misere perdevo un a zero io che ti favo austria mi sono addormentato ragazzi devo vedere devo vedere cosa ha fatto l'austria poi ovviamente bom il portogallo lì l'olanda 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 adesso vedremo adesso veramente incominciano i quarti di finale tosti adesso veramente vedremo vedremo chi vincerà anche se anche se secondo me io non lo so perché ho messo il gettone sull'olanda ve lo ripeto poi vedremo vedremo bacione a tutti i belli botti iscrizioni al canale like campanellina mi raccomando sempre iscrizioni al canale abbonatevi il canale perché ci sono premi quindi ragazzi devo ripetervi sempre le solite robe iscrivetevi abbonatevi sul canale di micheleone ciao belli alla prossima